nuovo ospedale le risorse ci sono i progetti ancora no sciocca pesaro per andrea giommi carabiniere morto suicida picchiola allenatore avversario d'asco all'aggressore del torneo della squetta dopo due anni di stop torna la regata pesaro pola a gabi c'è il rilancio dello storico ed in rock eccoci pronti buona serata a tutti voi questo è il nostro telegiornale di mercoledì 27 aprile che apriamo occupandoci del nuovo ospedale di pesaro che dovrà sorgere come ben sapete a muraglia un progetto che come possiamo vedere in questo primo servizio è ancora ben lontano però dall'avere un cronoprogramma di lavori sul tavolo delle consiglio regionale è tornato d'attualità il nuovo ospedale di pesaro da realizzare a muraglia ci è tornato sollecitato dalle interrogazioni dei consiglieri del pd biancani e vitri su tempi di realizzazione che ad oggi sono ben lontani dallo scorgere un cronoprogramma l'assessore regionale alle infrastrutture francesco baldelli ha risposto alle interrogazioni confermando le risorse 150 milioni di euro di cui 105 di provenienza statale senza scadenza per passare alla fase operativa baldelli ha detto che bisognerà completare un iter avviato lo scorso 30 marzo con l'accordo con l'azienda ospedaliera marche nord che ha di fatto avallato la costruzione di un nuovo ospedale a muraglia da 372 posti mantenendo l'autonomia funzionale dell'ospedale santa croce di fano un iter che ora va completato sottoscrivendo un accordo di programma con il comune di pesaro azur e marche nord fortemente critica l'opposizione in consiglio a cominciare da andrea biancani secondo il quale si è perso un anno e mezzo di tempo facendo carta straccia di un progetto che era già pronto con la precedente giunta e realizzandone un altro che a suo dire difficilmente vedrà l'avvio dei lavori in questa legislatura ottobre 2020 ad oggi praticamente l'unica cosa che è stata portata avanti cioè è stato demolito il progetto precedente progetto che prevedeva nella città di pesaro un investimento di circa 240 milioni di euro una struttura ospedaliera che doveva aveva circa 600 posti letto e che doveva essere un'eccellenza per tutto il territorio provinciale oggi ci ritroviamo un anno e mezzo dove non abbiamo neppure il progetto quindi i progetti devono ancora iniziare e l'assessore ha ribadito che i 150 milioni di euro che sono quelli necessari per fare la nuova struttura verranno comunque individuati ma nel bilancio regionale non ci sono e però quello che mi preoccupa è che dovendo ancora fare i progetti passeranno ancora degli anni e sono sicuro quindi che all'interno di questo mandato legislativo quindi nei prossimi tre anni non verranno non non sarei in grado di poter partire con i lavori e quindi la città dopo cinque anni si ritrova che prima aveva un progetto pronto che oggi sarebbero già iniziati i lavori si ritrova non avere niente ed ora cambiamo argomento grande sgomento a pesaro per il suicidio del 50enne andrea giommi molto conosciuto in città andrea giommi lascia una moglie e due figli dopo una tragedia che si è consumata attorno alle 18 di ieri all'interno della caserma di borgo santa maria dove l'appuntato è entrato qualche minuto prima dei colleghi e si è tolto la vita sparandosi in testa con la sua pistola d'ordinanza da 30 anni al servizio dell'arma andrea veniva descritto come un carabiniere dalla condotta ineccepibile ora la procura della repubblica ha aperto un'inchiesta per approfondire la dinamica dei fatti il questore di pesaro urbino michele todisco ha emesso oggi un provvedimento di daspo nei confronti del genitore del calciatore tredicenne che nel weekend di pasquetta a gabice mare ha invaso il campo dello stadio magi e ha selvaggiamente picchiato a calci e pugni l'allenatore della squadra avversaria il daspo in questione prevede il divieto di accedere ad ogni partita di calcio in italia per i prossimi due anni l'episodio avvenuto durante il torneo giovanile regins cap fra le squadre romane del ponte di nona e la squadra umbra dell'accademia terni l'aggressore è stato identificato anche grazie alla presenza allo stadio di personale di polizia fuori servizio nel telegiornale di ieri sera ci siamo occupati delle problematiche che riguardano appunto il teatro rossini che rischia di restare chiuso per gli eventi per l'intero anno 2022 vanno infatti rilasciate le certificazioni di conformità di sicurezza per l'intero edificio dopo i radicali lavori alla sala della repubblica una procedura che rischia di trascinarsi in tempi lunghi sulla quale i consiglieri comunali di centrodestra reclamano chiarezza convocando d'urgenza la commissione cultura del comune di certo gran parte delle attività teatrali e musicali continueranno a dirottarsi al teatro sperimentale più problematica invece la situazione del roff che aveva già presentato a inizio anno la sua edizione 2022 calendarizzando diverse opere proprio al teatro rossini nel mese di agosto ora si cercano alternative altra tematica un po ingarbugliata per il comune di pesaro è quella dell'installazione di antenne di telefonia 5g che in queste ultime due settimane ha portato a proteste di residenti prima a soria e poi a monte granaro a tal proposito il comune ha deciso di promuovere una serie di incontri per informare la cittadinanza su quella che l'amministrazione ritiene essere un'infrastruttura innovativa primaria che non nuoce alla salute per tre pomeriggi a partire da domani a palazzo gradari si parlerà dunque di telecomunicazioni tecnologia e salute insieme a tecnici professionisti e rappresentanti del comune domani alle 18 e 30 saranno mostrati i siti idonei per la telefonia alla presenza di giorgio catenacci e barbara scavolini dell'arpa e del dirigente del servizio di epidemiologia ambientale marco baldini in questa primavera stanno tornando tanti eventi che erano stati accantonati a causa del covid uno di questi è proprio la regata pesaro pola che a maggio torna a unire l'adriatico dopo due anni di stop per due anni consecutivi le barche sono rimaste in porto ora le vele sono di nuovo pronte a dissarsi per unire le due sponde dell'adriatico torna la regata pesaro pola torna la regata velica d'altura sulla rotta dei trabacoli e torna con la 36esima edizione la più rimandata e anche per questo una delle più importanti per la lega navale di pesaro e questa è una partenza molto importante che dopo due anni di riposo forzato ci ha creato uno sforzo superiore normale per ripartire non dico che come ripartire da zero ma quasi comunque speriamo che tutto giri secondo quello che prevediamo le prenotazioni di imbarcazioni perché la sostanza di questa di questa manifestazione sono le barche e abbiamo attualmente una trentina di prenotazioni siamo soddisfatti perché questo ci fa prevedere un qualcosa intorno a 50 55 imbarcazioni diciamo 50 imbarcazioni il crono programma della regata prevede la prima manche il 4 maggio da pola a pesaro con l'arrivo nelle marche delle barche croate momento clou sarà la seconda manche in quanto la più nutrita dal punto di vista delle imbarcazioni presenti che dal porto di pesaro salperanno venerdì 6 maggio alle 16 con la seconda manche tappa conclusiva sarà la terza manche pola pesaro lunedì 9 maggio prima della premiazione del 14 maggio alla lega navale ennesima sottolineatura ad una lunga storia di sport ma soprattutto di amicizia e fratellanza tra le due sponde dell'adriatico grossa amicizia prima andavamo a rovigno purtroppo adesso per questioni logistiche rovigno c'è praticamente interdetto speriamo di poter in futuro vedere di ritornarci a rovigno perché rovigno c'è rimasta nel nostro ma comunque anche andando a pola non è che sia riduttivo restiamo in riva all'adriatico osservandolo però ora dalla collina di gabice monte in particolare dall' eden rock storico locale da ballo degli anni 80 e 90 che ora si rilancia in una nuova veste vediamo oggi rossini tv si trova in un posto davvero particolare alla mia destra lo sguardo si perde da gabice mare a riccione a rimini fino a ravenna nelle giornate particolarmente limpide di sole alla mia sinistra c'è la magnificenza del colle san bartolo davanti a me tutte le altre colline pesaresi e non solo che si perdono da san marino fino allo sguardo bellissimo sul castello di gradara e alle mie spalle tutta l'ampiezza del mare adriatico davvero meraviglioso in una giornata come questa siamo all' eden rock di gabice monte eden rock che è stato uno storico locale da ballo della provincia lo è stato fino al 2010 dopodiché ha avuto un percorso diverso è stato prestato a cerimonia iniziative matrimoni ma in maniera più sporadica da quest'anno si struttura in maniera più forte con la proprietà storica che ha trovato un accordo con un'azienda di servizi di morciano e dunque diventa un luogo che è ripartito alla grande con le cerimonie con i matrimoni un luogo davvero particolare perché siamo sul punto più alto dell'adriatico davvero il punto più alto a ridosso della costa adriatica uno sguardo davvero bellissimo su tutta la magnificenza delle nostre terre è un posto che viene davvero rivalutato e rivalorizzato con questa nuova gestione dalla splendida vista delle terrazze esterne si entra poi in quattro piani di una struttura in cui si respira l'atmosfera vintage di un locale storico per la riviera di anni 80 e 90 divisi fra discoteca aree di ristorazione bar e la cosiddetta cigar room ambienti ampi per tanti metri quadrati che non intendono più essere una cattedrale nel deserto ma un luogo desideroso di riprendere vigore un luogo che da qualche settimana è diventato ancora più affascinante dopo la rimozione della gru dell'ex mare chiaro che da oltre un decennio ostruiva parte del panorama e dunque eden rock che rilancia se stesso ma non solo la struttura è anche pronta a dare un assist alle esigenze di ricettività turistica del territorio di gabice monte territorio che ad esempio vive una strutturale e problematica carenza di parcheggi noi ad esempio ci troviamo nel parcheggio della struttura eden rock dove sono ricavabili 45 posti auto sul quale c'è una tematica sul quale c'è un discorso in itinere tra la proprietà della struttura e l'amministrazione comunale per provare a destinare anche quest'area di parcheggio nei giorni naturalmente in cui non sono presenti eventi o cerimoni destinarli appunto alle esigenze di parcheggio del borgo di gabice monte e torniamo a parlare di cantiano fiera cavalli che dal 30 aprile al primo maggio torna con in inedita edizione primaverile e che ci viene illustrata dal sindaco alessandro piccini noi ci crediamo fortemente crediamo fortemente a questa nostra identità che è il cavallo tramite il quale promuoviamo l'intero nostro territorio dalle sue eccellenze ambientali quelle quelle enogastronomiche crediamo nel fare squadra e quindi di poter in qualche modo relazionarci e fare sistema tra il comune capoluogo e i borghi delle aree interne e raccontare questa nostra bella provincia tramite la sua storia le sue tradizioni le sue eccellenze quindi noi crediamo ecco che questo evento sia un evento tanto atteso dopo il periodo pandemico un evento di grande aspettative e sarà un successo in termini di presenze e di attività abbiamo creato due giornate paritarie dal punto di vista dell'offerta sia dal punto di vista appunto degli spettacoli equestri che di intrattenimento generale per le famiglie quindi sabato 30 aprile e domenica primo maggio alle pendici del monte catria in questo nostro spazio all'aperto di più di un ettaro in cui al cavallo del catria agli spettacoli equestri di alto livello si unisce tutto il nostro paniere delle tipicità dei prodotti agroalimentari e di intrattenimento per le famiglie con un occhio di riguardo ai ragazzi ai più piccoli ecco e si riparte dopo un 2019 che ha registrato forse il massimo di presenza di questa manifestazione esatto ecco siamo fiduciosi ma anche insomma preoccupati nel senso che l'obiettivo è di riproporre quel successo che era un successo storico veramente in cui l'evento aveva toccato l'apice dal punto di vista della sua attrattività ma forti appunto di quel successo e consapevoli che comunque tramite questa nostra identità che è il cavallo che è l'unica razza autoctona della regione Marche noi riusciamo a raccontare l'intero nostro territorio quindi abbiamo aggiunto elementi di qualità su spettacoli nazionali equestri di intrattenimento musicale format per i più piccoli quindi un contenitore che saprà aglietare per l'intera giornata o per le due giornate se uno sceglierà di stazionare il weekend a Cantiano il grande pubblico a partire appunto dal contesto familiare il comune di Monbaroccio negli ultimi due weekend ha completato due interventi di riqualificazione da 80.000 euro e a beneficio delle sue frazioni il primo riguarda la frazione Cairo che ha tagliato il nastro al restyling della pista polivalente recuperata da uno stato di totale abbandono creando ora un nuovo spazio per attività sportive e per la tradizionale festa della tagliatella domenica 24 aprile il secondo taglio del nastro è stato nella frazione di Montegiano che ora potrà godere di una struttura comunale dedicata a attività sociali o di valorizzazione del territorio come la tradizionale festa della crescia saikukon. Teatri d'autore stagione di prosa nei teatri storici della provincia propone questa settimana un doppio appuntamento con lo spettacolo I gemelli tratto dalle commedie degli equivoci di Plauto e Goldoni nell'originale riscrittura di Carlo Bosso per la compagnia romantica Cesare Questa. Appuntamento domani giovedì 28 aprile al teatro Angel dal Fuoco di Pergola e venerdì 29 aprile al teatro Battelli di Macerata Feltria. Sabato 30 aprile alle ore 18 a Palazzo Mosca dei Musei Civici sarà inaugurata la mostra di Antonio delle Rose intitolata Verrà il giorno, verrà la notte a cura di Bruno Ceci. Con i suoi grandi oli e disegni l'artista pesarese espone immagini di donne e uomini che rappresentano gli intervalli di tempo entro cui si delimita ogni esistenza individuale. La mostra è promossa dal Comune di Pesaro in collaborazione con Sistema Museo. Ed ora parliamo di un altro evento, infatti domani sera al ristorante La Giara di Santa Maria dell'Arzilla torna dopo due anni di stop la festa della Fisarmonica giunta alla tredicesima edizione. Nell'occasione si esibiranno tanti artisti di rilievo nazionale che spazieranno dal classico al jazz come Massimo Tagliata, Claudio Di Muzio ed Elena Camarone. Ed ora passiamo allo sport con il nostro Edoardo Orazzi che ha intervistato la giovanissima 17enne pesarese Valentina Marra, fresca vincitrice della medaglia d'oro agli europei giovanili di box, svoltosi nei giorni scorsi in Bulgaria. Al secondo europeo vinto in carriera la giovane pugile pesarese Valentina Marra si conferma ancora una volta la ragazza dai guantoni dorati sulla quale l'Italia può puntare per il futuro. Marra, classe 2005 studentessa al liceo classico di Pesaro, ha conquistato giovedì 21 aprile la medaglia d'oro agli europei youth di box a Sofia in Bulgaria, nella categoria 63 kg. È stato uno dei giorni più belli della mia vita perché è il secondo titolo europeo che porto a casa e le emozioni sono indescrivibili. Sono sensazioni che ti riempiono proprio il cuore dalla testa ai piedi perché è un'adrenalina che è veramente indescrivibile. E poi la finale l'hai vinta al primo round? Sì, ho disputato tre match di cui due, il primo e la finale li ho finiti prima del limite, al primo round tutti e due, quindi sono stata molto contenta anche del risultato e di averlo ottenuto in questo modo. Ecco, l'ultima volta che ci eravamo visti era novembre, era quando hai ottenuto la sponsorizzazione di Battistelli, quindi era un primo passo importante. In questo frangente di tempo quali sono stati altri obiettivi che hai raggiunto e obiettivi futuri? Quali sono? Allora, dall'ultima volta sicuramente un altro obiettivo importante è stato il torneo in Montenegro, Adriatic Pearl, che ho vinto, anche quello alla prima ripresa. Poi questo campionato europeo e sicuramente ora lavorerò duramente per i campionati mondiali che si terranno ad Alicante in Spagna a novembre. Un grazie particolare va, immagino, al tuo coach. Sì, sicuramente è Antonio Raspugli, il mio maestro. Oggi se sono qui e se sono quella che sono è grazie a lui, al 99%. Lo ringrazio tantissimo, perché lui veramente è la mia mente. Quando è distante da me io lo sento sempre vicino, in ogni momento, quando ho bisogno lui c'è, mi aiuta, mi consiglia e quindi devo tutto a lui. E poi in chiusura immagino che tu abbia sempre quel pallino delle Olimpiadi 2024. Cosa ti manca per poter arrivare pronta a quel giorno? Ma sicuramente l'esperienza che la farò in questi anni che mi separano dall'evento massimo, dall'evento massimo sportivo. Penso di avere tutti i mezzi per poterci arrivare, quindi lavoro, sacrificio. E come vedete su Rossini TV stanno partendo tanti tantissimi programmi che inizieremo appunto a trasmettere dal mese di maggio e ci accompagneranno un po' per tutta l'estate. Dopo avervi presentato tre tazze di tè e pollicioni neri, ora è la volta di Zicolando che partirà sui nostri schermi il 3 maggio. A partire dal 3 maggio Rossini TV porterà sui vostri schermi due puntate a settimana dedicata alla creatività e all'arte rivolte per i più piccoli. Tutti martedì e giovedì alle 16 potrete assistere a divertenti laboratori interattivi che verranno condotti da Federica Massi, l'ideatrice di questo nuovo format che ha riscosso grande successo finora su YouTube. Io organizzo laboratori creativi per bambini e anche feste con intrattenimento creativo. L'idea di aprire un canale YouTube è nata durante il primo lockdown, quando non potevo appunto essere in presenza con i bambini e fare i nostri soliti laboratori e quindi insieme al mio compagno che è un videomaker, si occupa di realizzazioni appunto di contenuti multimediali, abbiamo messo in piedi, prendete dentro casa, quest'idea di proporre laboratori creativi per tutti i bambini. Che tipo di giochi, che tipo di attività avete scelto di portare sul web? Ovviamente cose molto semplici che in quel periodo soprattutto si potevano realizzare in casa con materiali anche poveri, volendo, perché non si potevano chiamare i corrie, cioè non si poteva uscire di casa, comprare le cose, abbiamo addirittura provato a realizzare la colla fatta in casa utilizzando farina e acqua, quindi proprio dei lavoretti molto semplici che potessero intrattenere i bambini in quel momento. Federica ha le idee chiare anche per il futuro? Ovviamente in questo periodo ho ricominciato a fare i laboratori in presenza e perciò è rimasto un po' in stand by, ma l'obiettivo è proprio quello, anzi quasi di fare una sorta di tv proprio per bambini, con i bambini volendo in presenza con me, uno o due alla volta che insomma mi aiutano a creare. Grazie a tutti coloro che partecipano alla realizzazione di questi programmi e che noi di Rossini TV mandiamo in onda, adesso invece vediamo che cosa c'è questa sera in tv, 21.20 la nostra serata ci porta sulle tracce di Ferruccio Mengaroni, questo bel tour che è stato realizzato dalla Biblioteca Oliveriana insieme a Pesaro Segreta, che noi abbiamo ripreso, quindi se volete conoscere davvero questo itinerario meraviglioso tra Castiglione, Musei Civici e Biblioteca Oliveriana appuntamento a questa sera alle 21.20 e vi ricordo che tutti questi speciali il giorno dopo li potrete vedere anche sulla nostra pagina Facebook e anche caricati sul nostro sito internet rossinitv.it. Domani ci sono io con voi a darvi il buongiorno con la rassegna stampa della provincia di Pesaro Urbino, 7.20 in diretta, 8.20 la prima replica, 12.30, 14.18. E poi vi ricordo che domani è giovedì, torna una nuova puntata del Pesce Azzurro Quiz Show alle ore 19. E non perdetevi domenica 1 maggio alle ore 16.30 la Santa Messa per la Consacrazione Episcopale e l'inizio del Ministero del Monsignor Sandro Salvucci, in diretta alle 16.30 su Rossini TV. Ed ora per voi il meteo, per vedere come saranno le temperature i prossimi giorni, e intanto vi auguro buona serata.